Buonasera e bentornati al Minchiatutto, il primo quiz dove si vince rispondendo a Cazzo! E' con noi, manco a dirlo, anche questa sera il concorrente numero uno di questa trasmissione, il signor Giuseppe di Milazzo! Salve a tutti, sono Giuseppe Lauria di Milazzo e tanti giorni che vengo qui a fare il quiz, vi ringrazio per tutte le cose che mi mandate da casa. Sì, spero che abbia ricevuto quella testa di cavallo e quell'antracce che le abbiamo inviato la scorsa settimana. Ah sì, quella polverina nella busta? Esatto, la polvere nella busta che speravamo concludesse per se... Buona, buona, non addormenta i denti! Sì, però addormenta il resto del corpo per le... Cosa? Per l'eternità, signor Giuseppe di Milazzo! Ma questa sera lei può svoltare la sua vita pi... L'ernia! Pidocchiosa? Solo se risponderà in modo errato a tutte le venti domande e soprattutto se risponderà alla domanda fi... Ga! Nale, nale, nale! Figa e nale! Sono quasi tutte... No, sono tutte belle le nostre domande, ma la domanda finale è quella più fi... Gli ha dei puttani! Cante più ficcante più ficcante! Quella che le consentirà di portarsi a casa i super montepremi di 150.000 euro! Porca puttana! Vabbè, adesso non impreghi però... Sì, che sono tanti! Eh, sono tanti sì! Sai quante cose ci posso fare con tutti quei soldi? Ne parleremo dopo, ma prima deve arrivare con un giusto percorso a leggere la domanda finale... che questa sera tratta di scienze naturali! Me ne intendo! Sì, lei ha compiuto qualche studio... Sì, ho fatto la prima, la seconda... Che cosa? Le elementare! Lei, che ne so, avrà qualche nozione di chimica? Sì, ogni tanto quando fumo erba c'è un mio compare che la coltiva, minchia, spacca tutto il cervello... Che cosa? Di che lo sta parlando? La gange, no? L'erba! Ma non è la fame chimica, la chimica! Però questa sera siamo più improntati verso le scienze naturali e ci occupiamo di piante ed animali! Via con il tempo! Mi raccomando, signor Giuseppe! Sono concentratissimo! È ghiacciata a zero gradi! Tavoletta del cecco d'inverno! La sua età si calcola con gli anelli! Vescovo! Si associa all'anodo! Bucodo! L'impolata da! A che famiglia appartiene l'aglio? Ai rumeni, nel secondo piano! Minchia, non si riesce a segnere le scale! Una particolarità del falco pellegrino! Beve acqua gassata! Il padre del mulo! L'abster! Quando si gonfia il pesce palla! Quando parla sua moglie! Il parassita più grande del mondo! Fisco! Da cosa dipende la colorazione degli uccelli? Dalla categoria di youporn! Si dice delle formiche rosse! I puzzalafini! Sono molli, trasparenti e fluttuano nel mare vicino alle coste! Goldoni usati! Sono sprovvisti di un sistema nervoso centrale! Utente di Facebook! È provvisto di ali, ma non vola! Assorbente! Sono proverbiali le sue strisce! Maradona! Vedevano col mammut! Paput è figlio di putt! Una caratteristica della marea! Gli interni in tessuto a quadretti! Inguardabili! Vi si trovano molti fossili! Raiuno! Si associa al QI! QO! QO! Si misurano in pollici! Serato in Sardegna di Pippo Calieri! Quello di 105 dello zoo! Gigante rossa, gigante gialla, nana bianca! Di cosa sto parlando? Di un'orgia lesbo con dei cessi! Bravissimo, signor Giuseppe! Che sbagliate tu! Tutta, tutta, se no, bravissimo! Passiamo un passo adesso, eh! Lei potrebbe giudicarsi con una sola risposta il mo'? Cazzi tua! No, il monte premi finale di 150.000 euro, ma dovrà rispondere in modo errato anche a questa domanda, che è molto semplice, eh! Sono blondissimo! Gliela metto in bocca! Eh no, non solo l'orecchione! Ma no, no, è una domanda, dico! Ma no, se vuole, ci accorgiamo! Ma senta, ma non faccia delle illazioni, scusi! Vuole scopare mia moglie! No! Parliamo di mammiferi marini, signor Giuseppe, stia molto attento! Grandi mammiferi marini! Sì, sì! È facile, eh? Sì! Il tipo di orca più conosciuto al mondo è l'orca... Astassina, signor Giuseppe! L'orca assassina con la bianca e nera! Ah, giuventina! Ma che giuventina? L'orca! No, l'orca assassina, predatrice, mangia la foca! Minchia, pure l'esbica! Che peccato, signor Giuseppe ha buttato il mio tutto! Eh, per me è almeno preparato! Eh, lo hanno visto che era particolarmente caldo stasera, invece, eh! Peccato! Che cosa non potrà acquistare, avendo perso la fase finale del nostro gioco? Niente, me l'ho organizzata un buon pare per fare una settimana bianca! Una settimana bianca a dove? Non so, alle altre... A casa, a casa! Beh, come fa a fare una settimana bianca a casa, scusi? Con cinque chili di cocaina! Benissimo, signor Giuseppe! Noi però ci rincontreremo nella prossima puntata del Minchia Tutto! Il primo quiz dove si vince rispondendo... A cazzo! Ma voleva fare il giornaliero o il mezzogiornaliero? In che senso? No, per la settimana bianca, ero perplesso! No, non dormiamo proprio! Lo amo, lo amo! Il più grande concorrente... Gerry Scotti, cosa aspetti a chiamarlo? Maria Luisa, nipote, così si chiama, scrive... È vero Paolo che si può scaricare in toto la prestazione dell'artista, ma dopo che hai firmato il contratto, fai la pubblicità e l'artista non scende dalla macchina se non gli dai il resto dei soldi e non strappi il contratto che fai... Eh? Non ho capito, Maria Luisa... Non ho colto, ma credo sia stata truffata da qualcuno! Da qualcuno? Per scaricare 7.000 euro ne restituisci gli oltre 10.000 che hanno speso le persone per vedere l'artista? Ma questa è nipote, figlia di consenco... Ma no! Maestro! Maestro, domani possiamo contare nuovamente sulla sua presenza? Sì! Ma che bello è! Anzi, mi scusi, mi scusi... Marco, vengo anch'io se vuoi! Sì, grande, fratello! Ma stai zitto, Paolo! Scusa, scusa, però adesso io devo fare un conto. Voi siete stati pagati un mese e mezzo per non venire, quindi dovete recuperare un mese e mezzo, quindi tutta la settimana almeno... Bravo, Marco, sono d'accordo con te, tutta la settimana! Bravo! Bravo, io non vengo! Nemmeno io! Fanno loro! Andiamo a fare un film io e te, Paolo! Noi andiamo! Facciamo Natale a fanculo! Già fatto! Ma cazzo! Ci risentiamo domani, grazie alla culpa di Viatturati, grazie alla grande famiglia sulla pagina di Facebook, Lozò di 105, grazie a Pippo, Spine, Wender, La Chicca, Ivo Avido, Marco Dona, il maestro, Paolo Noiz, una puttana di vostra madre! A domani, ciao! 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 Grazie a tutti e a domani!